Finché l'uomo non tornerà a rendersi la vita semplice e non proseguire quindi per l'attuale via del così troppo complicato, tornando al sano principio del rispetto per la vita, si allontanerà progressivamente sempre di più dal piacere di vivere la propria vita. Nessun uomo abbia a costringere un altro uomo, bensì tutti e due abbiano a scegliere. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.